sugli scavi archeologici di porta maggiore di epoca medioevale mettiamoci una bella pietra sopra non saranno mantenuti visibili anzi più che una pietra un bel tessuto non tessuto e come avvenuto per i resti del forno ottocentesco della famiglia antonelli sotto la statua di ottaviena augusto una gettata di ghaino e ricoperti soprintendenza delle marche in accordo con il comune di fanno hanno scelto così con buona pace di quanti in queste settimane chiedevano a gran voce anche a mezzo stampa che questi reperti storici fossero mantenuti visibili e potessero rappresentare una risorsa per la città in una conferenza stampa congiunta in comune questa mattina ne è stata data la notizia motivando nella decisione con una serie di spiegazioni da parte dell'ente di carattere tecnico pratico ma anche di indirizzo politico finalizzato al rispetto della filologia storica del sito una scelta precisa di indirizzo quindi come quella di seppellire i basolati di epoca romana all'angolo di via martino da fanno perché fuori posto di qualche decina di metri ma meta di migliaia di turisti i motivi sono fondamentalmente di salvaguardia e tutela del bene archeologico ma anche di tutela e valorizzazione del bene architettonico della porta emotivamente sarebbe stato bello poterli vedere costantemente ma questo tecnicamente è molto impegnativo e proibitivo il nostro compito è quello di valutare e di ponderare e quindi di contemperare l'aspetto emotivo all'aspetto che di passione che abbiamo anche noi ovviamente con gli aspetti tecnici e soprattutto quello che a noi importa di più è la salvaguardia del bene stesso l'accesso ai cunicoli verrà mantenuto anche perché probabilmente dopo una prima ispezione meccanizzata si procederà con una umana attraverso uno speleologo che si calerà nel cunicolo ma l'emozione di poterne usufruire visivamente non ci sarà come invece avviene in altri posti sparsi in mezzo mondo con anche molto meno patrimonio di ciò che invece fanno possiede certo questo però impone scelte anche economiche importanti perché se il rischio è quello di ritrovarsi con un altro spettacolo e ricettacolo di rifiuti come all'inizio di corso mattiotti per i resti di porta giulia meglio non farlo bocche cucite su come e con cosa sarà lastricato il sito di certo è che sarà uniformato con il resto del pincio riportato indubbiamente ad uno stato di grande bellezza complessiva e che presto verrà inaugurato abbiamo fatto anche delle scoperte importanti storiche non dimentichiamo che non c'è solo una riqualificazione della pavimentazione dei giardini del fossato ma c'è anche una valorizzazione con un'illuminazione interna ed esterna al termine restituiremo tutto alla città anche con un momento di festa da condividere con tutti i concittadini